Perché avete deciso di appoggiare Federico Sborina, il candidato di centrodestra? La prima motivazione è un'amicizia profonda che mi lega a Federico Sborina, ma soprattutto perché con lui e altri amici abbiamo fondato l'associazione Battiti circa 4 anni fa, pensando alla Verona del domani. Mai avremmo pensato di poter arrivare alla candidatura di Federico Sborina, ma per una volta l'impegno e il lavoro sul territorio ho pagato. In cosa si differenzia l'associazione Battiti, la vostra lista, rispetto ad altre? Quali sono i punti cardine fondanti di questa associazione? Preferisco dire i punti cardine e quelli fondanti di questa associazione, che ripeto, la passione per la propria città innanzitutto e quindi un amore viscerale nei confronti di Verona. La seconda cosa, la meritocrazia, perché noi vorremmo sconfiggere quella brutta usanza che nelle partecipate, nei posti che vengono poi assegnati, ci vadano gli amici degli amici, ma ci vadano invece persone competenti che riescano a gestire la cosa pubblica in maniera positiva e magari portando risorse utili all'amministrazione comunale. A pochi giorni dal voto, quali sono le vostre sensazioni? Sarei ipocrita se non dicessi che le sensazioni sono buone, da buon tifoso della mia squadra, ma vedo una squadra carica, anche di persone motivate, soprattutto tante persone giovani, tante donne, che hanno voluto mettersi in gioco su un progetto che inizialmente non era facile, ma che oggi sta trovando sempre di più riscontro nei cittadini veronesi. Spero che l'11 di giugno questa cosa venga già l'11 di giugno a San Città. Su cosa dovrebbe puntare una città come Verona per fare il salto di qualità, secondo lei? Sì, secondo me e secondo noi sicuramente il salto di qualità passa da valorizzare sempre di più quelli che sono il patrimonio di Verona, quindi il turismo, quindi c'è tutto l'indotto che porta il turismo e sviluppare la parte culturale, perché noi siamo un museo a cielo aperto, abbiamo un teatro all'aperto che nessuno ha al mondo e che quindi deve essere valorizzato, ma soprattutto messo in mano persone competenti del settore e che lancino un marketing a livello globale del brand Verona. Facciamo una battuta. Allora, Federico Sborina è sicuramente uno dei protagonisti del ballottaggio. Preferirebbe presentarsi a questo appuntamento con Patrizia Bisinella o con Orietta Salemi, senza nulla togliere ovviamente al candidato Gennari, Croce o agli altri insomma di questa partita, che fanno parte di questa partita, ma evidentemente sono i nomi più papabili per un eventuale ballottaggio. Ah sì, sono i nomi più papabili, preferenze non ne ho nel senso che non temiamo nessuno. Oggi, per quello che sono i sondaggi che circolano nell'ambiente in questo momento, sarà una sfida fra noi e Orietta Salemi. Non abbiamo comunque, ripeto, paura di nessuno perché crediamo fortemente che il nostro sia un progetto buono, ma soprattutto un progetto vincente.